Il nuovo ospedale regionale di Campeglione sarà pronto entro un anno, lo ha affermato l'assessore Baldelli nel sopralluogo al cantiere alla presenza del sindaco Calcinaro all'interno della struttura che è già stata completata in molte sue parti. Una struttura ultramoderna, antisismica, con 372 posti letto, 900 parcheggi auto, per un investimento complessivo di 122 milioni, che alla fine diventeranno 160 milioni. La regione ha inserito anche le camere operatorie per consegnare un ospedale completamente chiave in mano, realizzato con le più complesse tecniche architettoniche ed ingegneristiche, progettato su misura del paziente, afferma Baldelli. Il robot chirurgico Da Vinci verrà installato nell'ospedale Murri di Fermo. Per un costo di 9 milioni di euro, il robot è un sistema evoluto per la chirurgia mini-invasiva, trovando diverse applicazioni dall'urologia alla ginecologia alla chirurgia toracica. Il chirurgo, fisicamente lontano dal campo operatorio, resta seduto ad una postazione dotata di monitor e comandi, muovendo i bracci del robot collegati agli strumenti endoscopici. Il campo operatorio viene proiettato con immagini ferme ad alta risoluzione. È stato firmato questa mattina presso la prefettura di Macerata il protocollo di intesa La Stanza Sospesa, che promuove azioni condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza di genere. Il progetto nasce dall'idea di Soroptimist Club Macerata, di provvedere a pagare la permanenza di donne e minori vittime di violenza nelle strutture alberghiere del territorio. Presenti alla firma del protocollo la prefetta Fusiello, il sindaco Parcaroli, l'assessora alle pare opportunità D'Alessandro, la presidente del Soroptimist Medei, il presidente di Federalberghi Giustozzi, la presidente Croce Rossa del Balzo Ruiti e il vicepresidente della Croce Verde Tiburzi. L'azienda ospedaliera universitaria delle Marche è diventata nei giorni scorsi il set del film Mia, con Matteo Paolillo ed Esther Pantani. Il film racconta la storia di una donna e di un ragazzo più giovane che dovranno confrontarsi con le sfide della genitorialità. Roberto Venuso, produttore del film, ha ringraziato la direzione generale dell'azienda ospedaliera universitaria delle Marche, il personale medico, sanitario e di staff della direzione per l'accoglienza, la collaborazione e il supporto speciale e unico che ci hanno permesso di rendere reali tutti i dettagli di questa sofferta maternità. Una sentenza di un giudice del Tribunale di Ascoli ha stabilito lo sfratto dall'immobile in piazza Orlini che da 70 anni ospita il Palazzo di Giustizia. La sentenza ha stabilito che l'edificio dovrà essere restituito al legittimo proprietario, il fondo immobiliare Investire SGR, poiché, essendo scaduto il contratto di affitto a fine 2022, l'Agenzia del Demanio non ha inteso rinnovarlo alle condizioni economiche del fondo. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli ha proclamato lo stato di agitazione e interpellato il Sindaco Fioravanti, la Provincia e la Corte di Appello di Ancona. Lo sferisterio di Macerata e il Teatro Ventidio Basso di Ascoli verranno insigniti del titolo di monumenti nazionali, grazie a un emendamento a firma della deputata Giorgia Latini in Commissione Cultura. I due palcoscenici sono stati inseriti nel testo della proposta di legge sulla dichiarazione di monumento nazionale dei teatri italiani, per la loro importanza storica e in quanto simboli culturali di riferimento. La votazione, che si terrà alla Camera il 19 marzo, per l'Onorevole Latini, dovrebbe rafforzare la candidatura all'UNESCO dei teatri storici marchigiani, seguendo il protocollo di intesa della Regione a sua stessa firma nell'aprile 2022 avvenuta al Teatro dell'Aquila. Il teatro storico di fermo, fra i grandi, antichi e prestigiosi del centro Italia, resta fuori dalla proposta di legge della Latini, parlamentare ascolana eletta nel collegio di Macerata, che ha così preferito curare i gioielli di casa. Continuano i lavori di manutenzione negli impianti sportivi a Porto San Giorgio, in particolare le palestre Borgo Rosselli e Baldassarri e il campo sportivo Pelloni a nord. Il sindaco Vesprini dichiara che le numerose strutture sono sempre sotto la lente di ingrandimento di questa amministrazione. Le situazioni da risolvere sono molteplici, ma piano piano cercheremo di gestire le criticità, specie quelle di strutture sportive frequentate dagli atleti più giovani. La ditta edile Violoni di Altidona si è giudicata all'appalto dei lavori per il prolungamento di via Martiri delle Foibe a Porto Sant'Elpidio. Per un importo di 340 mila euro, l'opera verrà completata entro la stagione estiva, dichiara il sindaco Cerpella. Critiche appaiono le condizioni del manto stradale pieno di buche. L'intervento è atteso da più di dieci anni, quando è rimasto bloccato per un contenzioso con la proprietà del terreno confinante da espropriare. Porto Sant'Elpidio ha ottenuto dalla regione un confinanziamento di 240 mila euro per eseguire i lavori. Via Martiri delle Foibe sarà prelungata fino all'incrocio con via 20 Settembre. Sarà allargata la carreggiata per il doppio senso di marcia, allungata fino a 10 metri e rifatta la pavimentazione stradale.